HTC One M9, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, il confronto. Di certo non poteva mancare il confronto tra questi tre top di gamma Android, sono i tre smartphone di inizio 2014, almeno di questo primo trimestre dell'anno. Il confronto non poteva mancare, e iniziamo subito, sono tutti e tre spenti, ovviamente ne vado ad accendere contemporaneamente due, perché solo due sono le mani che ho a disposizione. Vediamo subito il confronto nella velocità di accensione di entrambi. Ovviamente quello dell'S6 è praticamente identico a quello del fratello gemello, in quanto a caratteristiche tecniche sono identici. Come potete vedere, il primo ad essersi acceso è l'S6, il One si sta ancora accendendo, addirittura l'S6 Edge si è acceso ancora prima del One M9. Per tutti e tre abbiamo la luminosità automatica, al massimo, e già qui abbiamo una prima differenza sulla luminosità del display, che chiaramente vince sui due Galaxy S6. Ovviamente è anche abbastanza scontata come vittoria, in quanto i due dispositivi della Samsung sono dotati di un display QHD, quindi con una risoluzione che è il doppio di quella del One M9. Scelta quella di HTC, di rimanere e di mantenere la stessa risoluzione e la stessa diagonale del One M8, quindi del modello precedente. Differenza invece con Samsung, che ha deciso di portare sull'S6, le due varianti naturalmente, l'S6 Flat e l'S6 Edge, il meglio che il mercato offre attualmente in quanto a caratteristiche, e tra queste è previsto anche appunto il display in 4 volte con la risoluzione che ha HD. Ma andiamo per gradi. Parliamo innanzitutto della versione Android. La versione Android per tutti e tre, naturalmente, lo faccio vedere giusto così per andare anche un po' a verificare quali sono le differenze già di software, e la 5.0.2 Lollipop, con l'interfaccia Sense 7 per HTC e la TouchWiz, anche se quella rinnovata, per l'S6. In entrambi, la questione dell'interfaccia ovviamente è una questione molto personale e non vado lì a giudicare, però dico, in entrambi i casi, sicuramente sono entrambe due ottime interfacce, sicuramente la nuova TouchWiz è molto veloce, molto reattiva, come anche la Sense 7, diciamo, ha una buona reattività, forse non quanto quella che ha attualmente il Galaxy S6. Ma veniamo proprio al display, ritorniamo a parlare di display, abbiamo due concetti differenti, a parte la risoluzione di QHD, abbiamo anche un display con una diagonale da 5.1 pollici per gli S6 e da 5 pollici per l'HTC One, che ha una risoluzione Full HD, come detto, rimane su quella che è la risoluzione anche del OneMo. Oltre a questo, quello che spicca, ed è in maniera abbastanza evidente nella differenza tra i due, è sicuramente anche la densità per pixel del Galaxy S6, che è di 577 ppi. Potrebbe essere questa una scelta di HTC dovuta anche all'utilizzo della batteria, cioè al consumo della batteria? Non lo sappiamo. Certo, un'ipotesi la possiamo anche fare. La cosa è probabile, potrebbe anche essere scelta differente, ovviamente per Samsung, che invece ha deciso comunque di adattare un display molto energivoro e che consuma tanto, e quindi ne risente anche un po' la batteria. Ma questo, per quanto riguarda la batteria, l'uso della batteria, l'utilizzo della batteria, quanto consuma e quali sono i confronti, lo vedremo tra un attimo. Quello che voglio far notare, voglio mettere l'accento su un punto, su un fatto che forse non ha fatto ancora notare praticamente nessuno, cioè i display sono rimasti praticamente gli stessi di quelli del top di gamma, come dimensioni, come diagonale intendo, dei top di gamma dello scorso anno, sia HTC che Samsung. Addirittura se mettiamo in questo confronto, andiamo in maniera virtuale a pensare anche all'LGG Flex 2, addirittura il display in quel caso si è ridotto, è diminuita la dimensione della diagonale. Che ci sia forse un ripensamento da parte delle aziende e quindi un cambio di rotta, non lo sappiamo, non lo so, può essere che comunque si sono resi conto che ormai la dimensione di 5 pollici per uno smartphone è il massimo. Speriamo che lo capiscono anche con i phablet, i cinesi non tanto, visto che le dimensioni da 7 pollici, che è praticamente un tablet, però penso a Huawei ovviamente. Comunque, fatto questa piccola parentesi sui display, andiamo a parlare di processori. Qui già, anche qui vediamo un po' sulle note dolenti. Stavamo parlando di LG, proprio un messaggio da LG, ma è incredibile. Dicevo, qui veniamo alle note dolenti. Abbiamo, ovviamente per il Galaxy S6, abbiamo il processore Exynos 7420 a 64 bit, in tutti e tre i casi abbiamo un processore a 64 bit prodotto in casa, quello di Samsung. Nel caso di HTC, del One M9, HTC ha deciso di utilizzare lo Snapdragon 810, anch'esso Octa-Core a 64 bit, a 2 GHz. In realtà dovrebbe essere a 2 GHz perché poi, dati problemi di surriscaldamento a cui è stato soggetto il processore, che ben conosciamo perché sappiamo benissimo quali sono state le polemiche, se ci seguito, ovviamente noi abbiamo seguito tutta la vicenda, comunque il One M9 ha ricevuto gli aggiornamenti che dovrebbero aver castrato, dico dovrebbero perché in realtà poi il funzionamento del dispositivo non mi sembra averne risentito, comunque dovrebbero aver ricastrato il processore. Il processore Exynos invece è realizzato con una tecnologia a 14nm detta FinFET, si assicuro, credo che sia il miglior processore che Samsung abbia mai montato su un suo dispositivo. L'utilizzo di diversi processori ha comportato anche l'utilizzo di diverse GPU, abbiamo ovviamente la Dreno 430 per quanto riguarda i One M9 e la Mali T760 per quanto riguarda invece i due Galaxy. Stiamo parlando ovviamente di processori che sono entrambi al top, quindi davvero le differenze sono minime se ci sono in realtà queste differenze. Comunque si comportano molto bene ad esempio nella gestione dei giochi molto pesanti, poi vi faremo vedere anche in un altro video a parte come si comportano questi dispositivi con i giochi. A parte questo, tutti e tre i dispositivi sono datati di ben 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna per tutti e tre i dispositivi, poi per gli S6 abbiamo anche i tagli da 64 e da 128 GB. Per quanto riguarda la memoria interna, non è espandibile per i Galaxy S6, è espandibile con microSD fino a 2 TB, in realtà ovviamente i 2 TB non esistono, quella attuale è da 200 GB la microSD massima, quella della SanDisk, quindi diciamo 200 GB l'espansione massima dell'HTC One M9, virtualmente sono 2 TB. Per quanto riguarda poi le dimensioni, la memoria occupata dal sistema, quella dei Galaxy S6 abbiamo visto nella recensione dell'S6 Flat e anche del Galaxy S6 Edge, che sono circa 6-7 GB quelli occupati, invece quelli di HTC sono veramente tantissimi, sono 11 GB occupati dalla memoria di sistema del One M9, però comunque c'è la possibilità dell'espansione della memoria. Questione veramente spinosa per quanto riguarda invece i due Galaxy S6, secondo me una scelta, devo dire, sbagliata di Samsung. Samsung con gli S6 ha voluto delineare, di dimarcare, fare un taglio netto con il passato, ci sta anche, lo capisco, lo comprendo, per cambiare, per rinnovare, per correggere gli errori del passato, però la mancanza del microSD si sente e i 100 GB di cloud con OneDrive per due anni non credo siano la soluzione, soprattutto con OneDrive, perché è veramente un cloud molto, molto lento, almeno per l'utilizzo che io faccio del cloud con Dropbox, siamo a livelli assolutamente superiori, non sono neanche paragonabili i due servizi. Comunque, lasciando perdere questa mia questione personale con OneDrive, andiamo, e con i servizi cloud, andiamo avanti. Passando a parlare di dimensioni e peso, bisogna considerare, appunto, in questo comparto, che hanno influenza anche la dimensione e la forma, cioè nella dimensione e anche la forma del dispositivo. In questo sicuramente, per quanto riguarda peso e dimensioni, e forma, il One M9 è sicuramente quello che ha la peggio. In che senso? Perché, a parte il fatto di essere il più pesante, con 157 grammi, e anche quello che ha uno spessore maggiore dei tre, nonostante ci sia una certa curvatura nella cover posteriore che consente di avere una migliore ergonomia del dispositivo, però quella forma veramente è ingombrante, a parte sempre la solita problematica dei tasti a display, quindi che vanno a occupare parte dei pixel della dimensione, insomma, del display, questo logo HTC con questa banda nera che va a occupare ancora spazio, e poi ci sono i due ottimi speaker, per carità, però comunque vanno a occupare ancora ulteriore spazio, cioè quindi c'è veramente tanto, tanto spazio che viene occupato, e il peso, devo dire, si sente, soprattutto se poi si ha a che fare con i Galaxy S6, quindi la differenza di peso si sente nell'utilizzo, anche quotidiano, non solo così, proprio facendo una valutazione di pesi, non so, partita non chiamata, vabbè. Cosa strana poi, devo dire che nell'ergonomia, quindi nell'utilizzo di tutti i giorni, tra Galaxy S6 e Galaxy S6 Flat preferisco l'S6, l'S6 normale, in quanto l'S6 Edge ha dei bordi, comunque sono presenti dei bordi che sono quasi posti nella parte posteriore, che sono veramente fastidiosi, quando lo si impugna. Forse sono fatti proprio appositamente per tenere lontani le mani, comunque la parte della mano a contatto, per non portarlo a contatto con il display, ma dà almeno a me una sensazione abbastanza fastidiosa, la stessa che poi avevo già accennato nella recensione Galaxy Note Edge, che ha una sola parte di display curvo e ha questo stesso effetto quasi, diciamo, tra virgolette, tagliente. Comunque, dimensioni, sicuramente gli S6 e gli S6 Edge, anche se la differenza è veramente minima, sono più piccole, sicuramente più sottili. Infatti abbiamo 9.6 mm per lo spessore del One M9, invece abbiamo 6.8 mm per l'S6 e 7 mm per l'S6 Edge. Comunque, nell'uso quotidiano, per la ergonomia e la maneggevolezza, secondo me l'S6 Flat è quello che fra i tre è il migliore. Veniamo ad un'altra parte molto, molto problematica, comunque che è una questione delicata per HTC, la fotocamera. Le fotocamere anteriori dei due Galaxy S6 sono da 5 megapixel, posteriore da 16 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine. Abbiamo 4 ultra pixel per il One M9 nella parte anteriore e da 20 megapixel nella parte posteriore. Il problema è che comunque le immagini che si realizzano con il One M9 in realtà non sono poi così incredibili ed eccezionali quanto uno ci si aspetta. In realtà sono molto, molto rumorose, soprattutto se viene messa molto sotto, quindi con zoom al massimo, immagini molto particolari, molto che mettono sotto stress, diciamo così, sempre tra virgolette, il processore. Le immagini non sono da sensore da 20 megapixel. Decisamente migliori invece quelle della fotocamera del Galaxy S6 ed S6 Edge. Anche se devo dire, forse ormai ci aspettiamo sempre qualcosa di incredibile e di eccezionale, ma anche da questo S6 mi aspettavo qualcosina in più, anche se, ripeto, le foto sono sicuramente ottime, non c'è che dire, però ribadisco che boccio lo zoom 8x assolutamente, secondo me non lo prendete neanche in considerazione, immaginate di non averlo. Se considerate solo lo zoom 4x, fa foto e video fantastici. Ovviamente in entrambi i casi abbiamo foto e video con risoluzione massima in Ultra HD, quindi con possibilità di farle anche in Full HD, nel caso dell'S6, S6 Edge anche in Full HD a 60 pg per secondo e in QHD. Batteria. Batteria, anche qui ancora, mi ripeto, rido ma la cosa è da piangere, anche qui veniamo a delle note dolenti per tutti e tre. 2840, 2550, 2600 mAh, rispettivamente per One M9, S6 Flat ed S6 Edge. Batterie che si riducono, quindi rispetto allo scorso anno, batterie che durano veramente poco. La scelta, dicevo, forse del display, dalla parte di HTC, solo Full HD, è proprio legata alla batteria. Tra i tre è quella che ha la batteria con amperaggio maggiore, ed è quella anche che ha una durata minore. Sotto stress è arrivato a 5 ore, veramente assurdo. 8 ore, l'S6. Per quanto riguarda la batteria, probabilmente abbiamo... Forse la scelta di HTC è dovuta proprio al consumo elevato della batteria. Una piccola parentesi anche qui. Secondo me, l'Hollipop ha ancora molti problemi da risolvere. Potrebbe essere un problema della versione Android 5.0.2, l'Hollipop, il consumo energetico elevato delle batterie? Punto interrogativo. E lo lasciamo così. Comunque, dicevo, probabilmente, anche se quello che ha una batteria con amperaggio maggiore è quello che consuma, evidentemente, di più, e forse la scelta di utilizzare un display solo Full HD, solo, si fa per dire, sul One M9, è conseguenza anche di questo. Questo, ovviamente, è una mia mera ipotesi, assolutamente potrebbe essere, anche ho detto una cavolata, come potrebbe anche essere la verità, non lo sappiamo. Comunque, detto questo, ovviamente, l'utilizzo della batteria in tutti e tre ci fa raggiungere, insomma, la fine della giornata, se non utilizzati in maniera intensa, decisamente meglio l'S6 Edge. Utilizzo quotidiano. Effetto wow. Nell'utilizzo quotidiano, devo dire che le differenze forse sono veramente minime. L'S6 Edge ha semplicemente un aspetto più accattivante, ha la novità dei display curvi su entrambi i lati, però, poi, nell'utilizzo quotidiano, non è che si differenzi molto dall'S6. L'HTC One, forse è un po' più, come dire, non complicato, perché ovviamente non è complicato, però gli S6 hanno una maggiore velocità, proprio nel, non di soft-time, ma proprio nella velocità di gestione del dispositivo, alla visibilità diretta sotto la luce del sole, che ovviamente sugli S6 è indubbiamente migliore di che cosa non sull'HTC One, è anche dovuta alla differenza, a parte di risoluzioni di PPA, eccetera, e di sensore di luminosità, anche proprio di pannelli differenti, super AMOLED contro gli IPS. Anche poi, dalla personalizzazione sempre elevata del proprio smartphone Galaxy, nonostante si possa comunque modificare qualcosa anche sul One M9, fino alla realizzazione degli scatti di ottimo livello, e anche le cuffie in dotazione dei 2S6, devo dire, sono rimasto veramente molto colpito dalle nuove cuffie che ha messo in dotazione il Samsung con i nuovi Galaxy, finalmente direi anche. Quindi, nell'utilizzo quotidiano, sicuramente da preferire gli S6, quell'effetto wow, per l'effetto wow, anche qui in questo caso, gli S6 sicuramente sono decisamente ad un altro livello. Questa volta Samsung, sì, è riuscita veramente nel suo intento, peccato per la microSD esterna, più che per la batteria, la batteria in realtà, secondo me, non è questo problema così grave come qualcuno può far pensare, quanto invece la microSD che è spazio praticamente in meno che si può utilizzare. HTC One M9, secondo me, non dico che è un flop, ma HTC ha sbagliato con la fotocamera lo scorso anno, utilizzando la ultra pixel che adesso posso qui nella parte anteriore. Quest'anno, per rimediare a quell'errore, quindi utilizzare una fotocamera finalmente decente, tra virgolette decente, perché non è poi più di tanto, su un topo di gamma, ha sbagliato completamente strada. In pratica il One M9, come detto già nella recensione, non è altro che un aggiornamento, un rifacimento, un restyling del One M8. S6 ed S6 Edge sono assolutamente delle novità assolute e funzionanti in maniera eccellente. Con questo è tutto, un saluto a tutti i rettori di TecnoAndroid.it mettete un mi piace, condividete e ciao!